prova prova di nuovo microfono in questa sala adesso proviamo una videochiamata con paolo rosasalva ho attrattato il video ma pronto mi senti se io sto facendo una prova audio su sulla radio web perciò ci stanno sentendo chi chi per caso chi per caso si collega sente la nostra comunicazione almeno spero sto provando perché domani chiamerò in diretta daniele scarpa che a onolulu sì esatto allora sto facendo ecco skype no sì perché cosa è facebook ha comprato skype se vedi sulle faccine c'è dove sei c'è sulla sulla blu c'è anche il simbolo del telefono su dove dove ti scrivo un messaggio sulla finestrella no sulla finestra lei sopra non c'è non ti viene fuori la x la rotellina ah perché hai la schermata del coso del video se tu l'abbassi eh no ma però è collegato se tu perché io ho tolto la cosa perché se no mi consuma ho paura di non siccome ho poco segnale ho poco segnale e dal computer si ma sono con una chiavetta col computer e perciò sono qua in sala dove c'è la mostra che state allora ho fatto una prova detto adesso lo chiamo ho visto che mi avevi mandato adesso provo e funziona dopo devo vedere se in realtà va nel mixer del di sto spreaker della radio c'è tutto un altro discorso che tu adesso non lo vedi ma che lo vuoi trasmettere attraverso la radio la conversazione esatto esatto che così si vabbè ma loro hanno altri mezzi penso si anche io perché adesso ma anche perché adesso hai le telefonate gratuita anche col fisso si esatto si esatto ma per dire no ma se no si quando mi voglio andare spesso all'estero allora in California allora vale la pena per prendere certi soldi ma attualmente per non mi chiami mi chiamamo a te e non so potrei che non è comunque vabbè si si va bene dai no dove me l'hai mandata sulla posta elettronica no devo ancora aprirla no ma è scritto ciò che va scritto secondo me forse va aiuta una riga alla fine dicendo confidiamo che la vostra fondazione così identifica nei confronti di Venezia si vabbè va bene anticipiamo perché adesso possono ascoltarci qualcun altro no vabbè va bene si ci sentiamo d'accordo ciao 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 è fatta anche questa grazie